Ora facciamo un bel video Ma cosa sta bene? Si mangia, si vede che si fa la pasta, dai per farci un po' Ma tu, questa è la tre piatta Eh ma, non ci fai qua, che ti fai? Dai, vieni qua, guarda tu mamma Ti fai contento E tu fai la pietta da boccani Sarti in bocca, pronto per scagliere le formaggio Sarti in bocca, vai signore adesso Mi hai chiamato a posto, vai via Ma dai traglielo un po' Guardi mio fratello con il vento Cosa stai facendo? Daniele stai facendo gli ancioletti, straccetti Stai proprio alcuni altri, li chiamo pure, non so Un altro nome, diciamo Ok O con la nutella, o si possono fare anche salati Salati sarebbero con pomodorini, rucola e scagliere i pannuncianti Olio extravergine Non mi vuole bene Come aperitivo Se non mi vuole va bene li faceva fuori Però noi questi qua, con il signor Luigi Ce li mangiamo con l'antella Ah ti vuole bene Va bene? Perchè quando sono fritti, ci sono molto Che costa? Che le ha a base a letto? No la cessa è questa Guardi sta facendo il suo anche la cessa Allora che dice? Allora mi dà quella Mi dà quella quella Mi dà quella quella Un piatto O che ti sveglia Un piatto Pinto Aciallo Ma forse è la vista di essere fin Beh Mi passi il tavoagliolo dentro Se non penso a fin Mi serve Buon parangolo Roberto, guarda qua. Guarda come me l'ha riduto. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, vai. Mi serve una... Guarda, guarda. Cioè, in un momento duro, mi serve una... Che devi fare con questa manuzza? Mi serve una... un vassoio pulito. Passa un po' il tuo agliolo dentro. Devo fare l'altezza. Mi gira quattro. No, sono andata con i due. Mezza giornata. Quello che faceva l'altezza. L'hai capito? Mi gira quattro. Io la guardo l'altezza per mezza giornata. Così si metteva a lavorare. Quello che fanno gli altri. Pizzeria Italia, lo straccetto te lo offre lei. Sul conto. Napoli, pizzeria di Napoli. Napoli, Napoli. Napoli. Ad Acerra. Lo straccetto con la Nutella lo offre lei. No, non lo offre. No, non lo offre. Che ci stiamo mettendo sopra? Nutella. No, non lo offre. No, non lo offre. Mi piace, scusami. Mi piace. Da pizzaiola a pasticcini. E un attimo. È un attimo. È un attimo. Cosa, lo mangia? Io gli stavo pure, lo maggiare. Lo maggiare? Lo maggiare. Lo straccetto. Dovevi dire attivo? È molto in un po' di acqua. Un po' di acqua. Le poche sa le poche le poche. Gli uomini, c'è molto in un po' di acqua. Ecco qua, un po' di succo, un po' di glass, un po' di nata, un po' di nata, un po' di nata.